Il Giuseppe Verdi, musicista e compositore, è noto a tutti. Quello agricoltore e imprenditore è meno conosciuto, ma non meno interessante e ricco di aneddoti. La vita del maestro, oltre al pentagramma, è raccontata dal docufilm Le stanze di Verdi di Pupiavati, girato nel Piacentino. La trama racconta di un attore, Giulio Scarpati, che viene a lavorare in teatro a Piacenza e comincia a scoprire i luoghi verdiani e le sue passioni. La cosa che più mi ha colpito è proprio il fatto che lui ha fatto tanto per le persone anche della comunità, che era molto generoso in questo senso e molto innovativo, non solo nel campo musicale, dove ha fatto dei capolavori, ma anche come agronomo, insomma, come contadino. Un tributo al Giuseppe Verdi meno conosciuto, quindi, che può essere motore di rilancio per le terre che lo hanno accolto. Ma i tanti aneddoti che mi hanno raccontato sono talmente tanti che io spero che questo documentario serva anche a dare una dimensione anche internazionale a Verdi, ma che dia anche a questi luoghi che lo hanno accolto e in qualche molto amato, anche un riconoscimento per quello che lui ha rappresentato, i sentimenti, le emozioni delle persone. E ha tradotto questo. E tutto quello che faceva di caritatevole era sempre in punta di piedi, non volendo mai figurare, che è un concetto di sobrietà che molte persone importanti dovrebbero imparare. Il documentario è ispirato al libro Verdi non è di Parma, dell'avvocato Marco Corradi, dedicato al Verdi agricoltore. E' stato anche un grande imprenditore agricolo, un innovatore, un allevatore, ha portato, avendo girato tutta Europa, ha portato l'agricoltura piacentina delle innovazioni importanti, in un periodo in cui l'agricoltura si stava rinnovando, meccanizzando, industrializzando, da un certo punto di vista. E chi avrà la pazienza e la voglia di andarsi a vedere il docufilm vedrà quante novità ha portato Verdi nell'agricoltura italiana e anche piacentina.